6.49 del mattino, 17 agosto, Puntala, Maremma bucaiola, Maremma ampestata, Maremma bastarda, Maremma torbida, stanotte è una di quelle notti in cui sarà perché dormi 12 ore la notte e 3 ore di giorno sarà perché è il 17 e questo 17 è un numero importante, è il numero che ti liga a delle persone, è il numero in cui nel mese di maggio è andato online nel secondo che sto male punto net, una rondine fa primavera e tu sei una rondine, è il numero che quel mese di luglio dell'anno scorso e qua siete due ma siete manco testa in una rondine, è andata a vivere e a prendere vita la ristoria e ristori, è il numero che l'Albertino Nazionale nel mese di marzo ha fatto il record di gol in carriera, è il numero al cui interno ci vive un amico mio che mi piace giocare con le motociclette, è il 17, la testa frullava, mi veniva da scrivere, mi veniva da scrivere, mi veniva da scrivere, no, mi veniva da scrivere e se mi veniva da scrivere mi veniva da scrivere, però che fai? Rimani a letto e prendi a gomitata in faccia la tua moglie o chi ti sta accanto, perché non è che succede solo a me nel mondo con questo fenomeno e allora quella ti dice a che ore sono? E tu mi dici sono 5 e 20, 5 e 26 più o meno e giustamente si cassa, la notte è fatta per dormire teoricamente ma una notte d'estate senza dormire, perché stanotte ne è valsa la pena, avevo bisogno di scrivere, questa cammina nel mare, a me mi sembra tanto Caronte questa, però Caronte stava, ecco qua i gabbiani Andre, Caronte stava sulla barca, non stava a mollo, ma che meraviglia è questa, avevo bisogno di scrivere e sono uscito, sono andato a prendere le pizzette dal Toppi, ecco i gabbiani Andreone, l'amico mio che sei tu, quello vero, a casa mia passano verso le 5, 5 e un quarto, so da te a che ora passano e allora sono andato da Toppi, ho incontrato dei secondo testo male pensanti, loro erano stati in capannina anziché a stare a fare pensatori nel letto, a ognuno è il suo, secondo testo male, io ho scritto quello che dovevo scrivere, ora di torno a casa non ci penso proprio, si sveglieranno, e dove è andato babbo, è andato a comprare sigarette, e ma babbo non fuma, e babbo non fuma, e ne è scappato con nessuno, sta al mare, ancora col pantano da casa, quello che mi ha regalato mia figlia, la big e bad che è arrivata ieri, sarà forse che non dormivamo tutti insieme da un po' di tempo, ecco qua, stanno passando davanti a casa l'Andrea, perché da lui passano alle 4, da me passano alle 5, sto video dura 7 ore e mezzo, la signora che viene dal mare, ma quanto sta bene lei, ma quanto ha vinto, lo farà tutte le mattine, l'estate è fatta per fare quello che te pare, a me deve sgomitare dentro un letto in faccia a Silvia Escolte lo mandava, avevo bisogno di scrivere, sono venuto sul lettino di destra del gazebo di Gheddafi, della tenda di Gheddafi, ora cammino un po', e poi Dio vede e provvede, oggi è il 17, ci sono le prove ufficiali, loro sono partite, van da Garzero o van da Ristori, chi lo sa, bella per loro, bella per voi, bella per lei, bella per tutti quanti, secondo te sto male, viva la vita e buon 17 agosto, tu everybody!